Stormy Daniels, la meravigliosa nonché straordinaria porno star, basata agli onori di Le Cronache per una presunta relazione con il Presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump, pensate che è stata chiamata in qualità di ospite d'onore di Venus, la famosissima fiera del porno che qualche giorno fa è stata inaugurata nella città capitale della Germania, Berlino. Come ha fatto sapere Walter Aschenklaver, la donna di 39 anni d'età, porno attrice, è stata una delle top star americane negli ultimi 16 anni di tempo. Gli organizzatori contano proprio sulla sua presenza per andare a sponsorizzare, quindi a pubblicizzare, l'evento in questione. Ha dato alle stampe, a bella Stormy, una sua biografia qualche giorno fa di tempo che si chiama Full Disclosure, in cui ricorda l'incontro con Donald Trump e avrebbe addirittura elencato particolari non proprio piacevoli che riguarderebbero l'intimo di questo Presidente degli Stati Uniti d'America. E il video termina qua, iscrivetevi se vi va, commentate, al prossimo video da narratori italiani.